Ehi la ciurma! Io sono Mazze Test e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Mindtest Ita, seconda stagione Meanwhile, off camera, ho fatto questo piccolissimo impianto Ci ho messo un po' perché i crafting sono davvero un po' complicati in più Sono dovuto andare a cercare delle canne da zucchero che come potete vedere ho momentaneamente piazzato là Ho creato il Fuel Fired Low Voltage Generator, cioè quello che va a combustibile Su Switching Station, un Low Voltage Battery Box, un Low Voltage Grinder, una Low Voltage Allo Furnace E una Low Voltage Furnace Qua credo che è finito il combustibile Credo di avere delle boccettine di olio qua Da qualche parte, esatto Che tra l'altro ho scoperto essere davvero molto 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 comodo come combustibile Perché una volta che si abbattono gli alberi per la legna si possono raccogliere anche le foglie E queste generano un pacco enorme di energia Credo che... no, io ne volevo lasciare Scusa, 5 le volevo lasciare... 5 no, sì 5 le volevo lasciare In più qua dentro bruciano abbastanza lentamente E forniscono abbastanza energia da far funzionare un macchinario alla volta Non tutti insieme però Qua appunto come potete vedere ho visto... Cioè ho messo un attimo una fonte di acqua infinita e delle canne Perché per i... Scusate, ve lo faccio vedere Per i Cable Low Voltage c'è bisogno della Paper E quindi c'è bisogno di canne da zucchero Ora qua è il punto che avevo intenzione di utilizzare come abitazione Come dicevo nello scorso video avevo intenzione di farla circolare Quindi ho iniziato a piazzare il blocco centrale là E ho fatto 10 blocchi in ogni direzione 10 in questa direzione, questo è il decimo Senza contare quello centrale 10 in quella direzione, 10 in quella direzione 10 in questo Ho dovuto aggiungere un pochettino di dirt qua per farcelo stare Ma tanto non è troppo un problema E la mia intenzione iniziale è quella di fare una porta Per ognuno dei punti cardinali Che poi non sono cardinali effettivamente Quattro volte mettiamo la minimap Perché non credo che puntino veramente il nord C'è poco o niente Vabbè Però no, indicativamente Più o meno si Più o meno indicano i quattro punti cardinali Vabbè, facciamo finta che siano i quattro punti cardinali Ma effettivamente non esistono dei quattro punti cardinali Cioè esiste su, giù, destra, sinistra Perché siamo in un blocco in un mondo quadrato Comunque E volendolo fare circolare Ho fatto un muro qua di 7 blocchi Che è molto comodo mettendo una porta singola Perché la porta singola verrà esattamente centrata Poi ho messo due blocchi in così Uno, 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 uno E due blocchi dall'altro lato E pensavo di fare lo stesso nelle altre pareti Ho iniziato a poggiare quello Giusto per avere un'idea prima di iniziare il video In più, come potete vedere nell'inventario Ho farmato un po' di legno di pino Per il fatto che mi piace molto come colore E in più è diverso dalle solite costruzioni Che abbiamo fatto fino ad adesso E avevo intenzione di fare una casetta Stile un po' montano Nel senso che sotto è fatta di pietra E contavo di mettere gli stone brick Come potete vedere Perché mi piacciono di più la cobblestone Che mi dà l'idea troppo di grezzo E poco ho lavorato E poi dopo fare la parte più alta invece di legno di pino Fare Non so se due o tre piani di stone brick Credo che Due o tre piani Forse due piani Perché c'è l'altezza della porta che è due E poi sopra il livello della porta Oppure fare sopra il livello della porta Ancora di stone brick E poi fare altri livelli Di Di pino E avevo una mezza intenzione anche di fare Una specie di terrazzino sopra Cioè Una cosa di questo genere Fatta così con delle Parti più alte E qua invece Il tetto piano Anche perché è più comodo Rispetto a fare una cupola Che sarebbe abbastanza complicata Come questione Di conseguenza Io direi che possiamo anche iniziare A piazzare i blocchi Che abbiamo nell'inventario Mentre là Se ne cuociono altri Due Uno Uno Già inizio a sbagliare Ma tanto ho un piccone nuovo Di riserva nell'inventario Visto come sono previdente Sto giro Uno Due Così Vero? Sì E questi dovrebbero essere No Però c'è qualcosa che non qua Qua Con qua Acqua Allora Due Uno Due Tre Quattro Due Quindi qua sono Due Uno Due Tre Quattro Due Però quello è uno Troppo lontano Perché tutto ciò? Qua sono sette Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Ho già Sfalsato qualcosa Ho contato male Forse da qua Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Nove Ah Questo è più indietro di un blocco Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Undici Ce ne sono qua Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Sette Oto Nove Dieci Undici Un Due Tre E Fail Uno Due Tre Uno Due Uno Due Tre Quattro Uno Due Ok Era solo quello che era pietato male Il resto tutto a posto qua Allora dovrei eliminare tutta questa Servaccia Tra l'altro grazie che mi da un po' di semi di grano Anche se il grano non è la cosa che mi serve di più Perché avremo un sacco di altro cibo più performante del grano Che è molto poco performante Come tutte le cose che sono nel vanilla Per la stupida idea Cioè stupida idea Era un mio giudizio personale Quello di fare tutto molto difficile Che di perderci delle ore a grindare a scavare Io sono molto più per le automazioni Per le cose comode, facili, fattibili E quindi tipo il cibo che lo raccogli Lo puoi mangiare Non che lo devi trattare E lavorare E poi magari ne ottieni qualcosa Dovrei averla tolta tutta Ma non ne sono sicuro Vabbè Il pavimento non sono ancora sicuro Di come potrebbe venire E credo che ci penserò in un secondo momento Tanto ora non è una cosa molto urgente Andrei più che altro a pensare alle porte Adesso Allora andiamo a fare le aperture Qua non vi preoccupate Perché poi abbatterò tutto Cioè toglierò Toglierò la dirt E sarà tutto piano Fino là in fondo Di qua E di qua Contavo che là in quel punto Potrei fare tipo le coltivazioni Visto che ci sarà parecchio spazio Qua fare l'uscita per la caverna Dove adesso scavo E qua è verso il deserto Gli alberi di pino La savana eccetera eccetera E di qua è verso Il ponticello E l'albero di gomma Che se vi ricordate Dovrebbe essere tipo in quella Direzione No qua è il deserto E di qua è il deserto Oh è di là l'albero Della gomma probabilmente Vabbè Non è grave Allora andiamo subito a vedere le porte Che vorrei andare a vedere insieme a voi Allora Abbiamo Glass door Che però avevamo utilizzato Ah no Questa avevamo utilizzato L'altra L'altra stagione Questa qua forse è del vanilla No Di door Doors door glass Obsidian glass Questa è home decor Ho una mod door Boh Allora Questa qua è bianca bedroom Questa mi fa schifo Questa fa schifo Wood glass Non sembra niente male A parte il fatto che io non ho niente di ferro Non ho del ferro in lamp Ora come ora Doorbell e il campanello E non ci interessa Questi qua sono quelle degli elevator Eccetera eccetera Questa non mi sa per niente da esterno In più qua abbiamo bisogno del brass Ma brass ne ho Tinto brass Questa potrebbe essere carina da provare Ma non ne ho adesso la possibilità Quindi credo che andremo a fare delle porte di legno Questa davvero non posso farla Perché Per il semplice fatto che Non abbiamo niente Ho grindato tutto il ferro che avevo Anche perché Non mi sarei mai immaginato Di doverlo utilizzare per un crafting E quindi No Effettivamente non abbiamo più ferro grezzo Andrei quindi a fare la porticina Standard E poi dopo ne parleremo Allora Io ho bisogno di fare 4 porte E richiedono ognuna 6 blocchi 6 per 4 è 24 24 diviso 4 6 LOL Quindi così dovrei avere 24 blocchi Che mi sono esatti Per 4 porte Infatti No Mettili là 4 Ok andiamo a posizionare Queste Fantastiche Errime porte Che dovrebbero essere No Dall'altro lato Ok Una Poi magari dovremmo mettere Anche un po' di luce Ma quello Ci si penserà Come al solito Come al solito La metto dal lato Sbagliato Ok 3 2 1 Sempre dal lato Sbagliato L'ultima la piazzeremo Bene? Spiegamo Devo piazzarla bene Devo prima uscire E poi cliccare Ok Questa è andata bene Perfetto Quindi le nostre porte sono andate E possiamo iniziare a mettere il secondo piano In modo da poterci muovere ora agevolmente Sarà un pochettino più difforme all'interno Ma Non mi dispiace Anche perché La zona che abbiamo preso Qui è molto ampia E Abbiamo comunque un diametro di Parecchi blocchi E quindi Qui all'interno possiamo mettere Tantissimi macchinari Tantissimi oggetti Anche decorativi Volendo E poi abbiamo la possibilità anche di fare degli altri piani Allora Abbiamo qua Altra stone Che sono andato a prendere prima Con la quale faremo degli altri stone brick Per continuare A Bricchettare il tutto Voilà 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 E poi bisognerà decidere adesso Se fare di 3 O se fare di 2 Se facessi di 2 Credo che sarebbe un po' Brutti Oh mi era rimasto questo in mano Lol Mmm Sarebbe un po' bruttino Per il semplice fatto che Convertiamo un po' di questi 26 dai Sarà più di uno stack Credo Sì No questi due però Li lasciamo qua Allora Per il fatto che Secondo me Stacca davvero tanto Con la porta qua A parte che Mi devo ricredere sul fatto che Non mi Piace più tantissimo Come accostamento Forse effettivamente È troppo chiaro Per gli stone brick È davvero molto chiaro Senza nemmeno Un pezzo di contrasto Potrei magari mettere Delle wooden planks Di legno di oak Del professor oak Per vedere Se Allora Questo è più scuro Ed effettivamente ci sta meglio Vedere se Mettendo Togliamo questo che ci impedisce Solo di passare Se Mettessi una striscia Di contatto E poi Dassi così No non mi piace Proprio per niente Per il fatto che Queste righe qua Si sposano troppo Con qua Cioè nel senso Sono troppo uguali a quelle Ma cambia il colore Nel frattempo Quindi non ci sta Il legno di acacia Potrebbe essere un'idea Anche se qui Non abbiamo alcuna acacia Nei dintorni Dovrei andare a cercare Le acacce giù in fondo Se no Altri blocchi Che potrebbero staccare un po' Forse della stone Forse della stone Della stone Forse staccherebbe abbastanza Voglio provare a fare Un esperimento No devo togliere questi Perché se no Non riesco A immaginarmelo Allora No No non mi convince La stone Non mi piace Come materiale di costruzione Proprio Proprio no Se no Che cosa abbiamo Di altro Che possiamo mettere Qualche se che Clay no 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 Allora Che cosa abbiamo Che cosa abbiamo Che cosa abbiamo Che cosa abbiamo Che cosa riserviamo Niente di niente Niente blocchi Di costruzione Quali sono brutti Quali sono Gli stessi Papapero Qualcosa di meno No Non sto vedendo Niente di interessante Se avessi stato bello Beh No Cioè Con il legno chiaro Starebbe molto bene La La Sandstone Questa qui Solo che il problema Che qui sarebbe Tutta chiara E tutta chiara Sarebbe davvero Un pugno in un occhio Ma se invece Lo girassi Questo Forse darebbe Un effetto diverso Sopra il Proviamo a vedere Allora Adesso non ho Il cacciavite Quindi do provare No Me lo fa sempre Questo in orizzontale Nespa Si No Ma non lo mette In verticale Lo mette O in così O in cosà Ma non lo mette Mai in verticale Proviamo a vedere Così come viene Ma non mi piace Proprio per niente Però il legno L'altro Questo qua È troppo scuro No Non riesco a capire Che cosa potrebbe Renderlo più bello Guarda che là La porta Aperta Con il cambio di colore Sopra Non ci va Non ci va Proprio Farò Un terzo Strato Di Stonebreak Ma in realtà Ci sto ripensando Non era quel Così bruttino Forse il fatto Era Che Con la porta sotto Stonava molto Ma secondo me Ci può stare Ci può Ci può Primo stare Sembra che sia Un piano diverso In realtà Però secondo me Ci può stare Ma se invece Sotto fosse Stonebreak Stonebreak Cobblestone Sarebbe più carino Ma secondo me No Però No 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 Non mi piace Ma la cobblestone Non mi piace Proprio come materiale Di costruzione Perché Forse perché L'ho usato troppo In passato Quando non c'erano Alternative Ma No Devo dire Che così Inizia a piacermi Un po' Però vorrei Più che altro Andare a controllare La possibilità Di trovare Dei legni Di acacia Per Saccheggiarli Violentemente E Così facendo Provare A vedere Se rende meglio Con L'acacia Anche perché Avendo a disposizione Dei nuovi legni È meglio Provarli Sperimentare Vedere un po' Visto che Quella abitazione Probabilmente Non verrà mai cambiata Dal primo momento Quindi È assolutamente Una buona idea A mio parere Quando la facciamo Farla per bene Dato che L'altra serie L'abitazione Non è poi mai cambiata Per pigrizia personale Per il fatto che Non Una volta costruita Con tutti gli Ingranaggi dentro Tutti Le altre cose circostanti Poi c'era anche Sotto tutta l'acqua Che avevamo utilizzato Per la sala Dei teletrasporti Era davvero Terribilmente Troppo scomodo Rimettere in discussione Il tutto Cambiare la forma Dell'abitazione Cambiare la grandezza Piuttosto che Cambiare Vabbè Cambiare il materiale Non è tanto Però Già cambiare la grandezza Eccetera eccetera Sarebbe stato Un enorme Lavoro Un enorme Dispendo di energia Ma Credo che ci metterò Un attimo Quindi ci vediamo Là Ciuma Andato E tornato Ci ho messo Un fracco di tempo Però ho preso Anche tre A cacciatore Sapling Che spero Possano crescere Anche qua Nel video In cui provavo La 0.4 E 0.13 Erano cresciuti Quindi non direi Non vedo motivo Per cui non dovrebbero Crescere qua Ho preso anche Un po' di legno Non tanto Perché Non volevo Starci una vita Eterna Volevo semplicemente Controllare Come Sta Ecco Come Come contrasto Mi sto abituando All'idea del chiaro Soscuro Devo confessarvelo Quindi allora Andrei a Provare Che fail Che ho fatto Ok E andrei appunto A provare Qua Come Viene Devo dire Che forse Mi piace Addirittura Di più La caccia Mi piace Di più La caccia E se facessi un mix No Secondo me Un mix Viene uno schifo Assurdo Che ci mettessi Del chiaro scuro Tipo Così Alternato con Un tema Quadretti No è molto Un pugno In un occhio È molto Un pugno In un occhio Al massimo Potrei fare Una parte scura L'altra parte Che no No Devo dire Che con la caccia Non mi dispiace Proprio per niente Forse mi piace Di più Del pino Ma anche il pino Il pino Da un'idea Molto più chiara Più viva Più Vispa Poi pino Ne ho di più Sì direi Che vado sul pino Alla fine Infine Vado sul pino E Tampi Tampi No no Va bene Va bene il pino Sì dai Ci sta Ho detto questo Visto che il video È già durato abbastanza A lungo Finisco la costruzione Off camera E noi ci vediamo Nel prossimo video Sabato prossimo Vi invito a lasciare un mi piace Iscrivervi al canale Se per caso Non l'aveste ancora fatto Mandrini Malandrini Macca Vabbè Comunque Io sono Mezzetess E vi auguro Una buona giornata Ciao a tutti